omicidio failla quattro condanne ergastolo per tre imputati caduta di calcinacci in viale delle calcare intervento dei vigili del fuoco covid in sicilia bollettino settimanale contagi in calo somministrate 974 quinte dosi di vaccino ex ospedale intervento social del sindaco su facebook la replica del direttore generale dell'asp antologia reporter la ruota degli innocenti stasera alle ore 21 su tfn bodybuilding l'atleta nisseno michelangelo locicero alle finali mondiali di policastro bussentino ben trovati omicidio failla quattro condanne tre ergastoli e trent'anni di reclusione quattro condanne di cui tre allergastole una trent'anni di reclusione sono state inflitte dalla corte d'assise nissena gli imputati considerati di aver avuto ruoli diversi nell'omicidio del gelese giuseppe failla ucciso a colpi di pistola la mattina del 9 ottobre 1989 il carcere a vite è stato inflitto al boss giuseppe piddu madonia 76 anni al san cataldese cataldo terminio 66 anni e al nisseno angelo palermo 65 anni 30 anni la pena per il gelese angelo bruno greco di 54 anni giuseppe failla aveva 51 anni quando fu ucciso mentre si trovava nel suo bar in via cadorna a gela il delitto secondo la ricostruzione della procura si inserirebbe nella faida tra cosa nostra e stiglia che insanguinò il territorio della provincia nissena negli anni 80 e cataldo terminio avrebbe ritenuto failla considerato affiliato a un clan rivale responsabile dell'omicidio del padre nicolò terminio e voleva vendicarlo una volta ottenuto sempre secondo l'accusa l'ok di madonia terminio avrebbe chiesto aiuto a greco il quale avrebbe sparato i colpi contro la vittima mentre angelo palermo avrebbe fatto da autista il corpo di failla venne trovato da alcuni clienti del bar incidente nelle campagne di villalba commozione nella zona del vallone per la morte di un uomo di 49 anni della vicina valle lunga pratameno questa mattina villalba in provincia di caltanissetta un operaio è morto mentre lavorava in campagna in un'azienda agricola incontrata minimenti si tratta di calcedonio loreto ogni bene 49 anni di valle lunga pratameno la vittima era la guida di un escavatore cingolato della ditta per la quale lavorava quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo prima che l'escavatore si ribaltasse l'uomo si è lanciato fuori dall'abitacolo nel tentativo di salvarsi ma cadendo abbattuto la testa al suolo riportando un grave trauma cranico subito si è attivata la macchina dei soccorsi e dalla centrale operativa del 118 del capologo nisseno è stato inviato l'elisoccorso i sanitari hanno tentato di rianimarlo ma purtroppo non c'è stato nulla da fare sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di villalba e i dipendenti dell'ispettorato del lavoro di caltanissetta che hanno effettuato il sopralluogo ed eseguito gli accertamenti del caso caduta di calcinacci in via delle calcare a caltanissetta intervento dei vigili del fuoco traffico in tilt stamattina tra via delle calcare via rochester a causa della caduta di calcinacci dal ponte che sovrasta la stessa via delle calcare nella zona dell'ex passaggio a livello erano le prime ore del mattino quando alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza di detriti sulla carreggiata che rendevano difficile il transito delle auto sul posto sono arrivati rapidamente i vigili del fuoco insieme ai carabinieri alla polizia municipale subito si è capito che era necessario bloccare il transito delle auto lungo la via delle calcare ciò ha causato disagio alla viabilità visto che essendo le prime ore del mattino fascia in cui tanti si recano sul posto di lavoro ed è anche il momento dell'apertura delle scuole il traffico era piuttosto intenso i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la parte inferiore del ponte e rimuovere i detriti dalla strada nel frattempo i carabinieri e la polizia municipale hanno bloccato gli accessi a via delle calcare dirottando il traffico su altre arterie stradali lite con spray urticante nel centro storico a caltanissetta intervento di un'ambulanza del 118 indaga la polizia lite fra due uomini ieri sera nel centro storico di caltanissetta nella fattispecie intorno alle 8 in piazza garibaldi si sarebbe consumato un alterco fra due uomini di nazionalità marocchina uno dei due avrebbe avuto la peggio tanto da rendere necessario il trasporto in ospedale sul posto infatti è arrivata l'ambulanza del 118 che ha condotto l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale sant'elia del capologo nisseno secondo la ricostruzione dell'uomo riferita a medici e poliziotti quest'ultimo sarebbe stato picchiato da un suoco nazionale ubriaco che gli avrebbe anche spruzzato uno spray urticante negli occhi da qui sono partite tempestivamente le indagini della polizia per fare ulteriore luce sulla vicenda ex ospedale vittorio emanuele di caltanissetta post del sindaco su facebook la replica del direttore generale dell'asp l'ex ospedale vittorio emanuele nell'occhio del ciclone per sapere come si concluderà il tiro alla fune tra comune di caltanissetta ed asp e per sapere quale sarà la destinazione d'uso della struttura bisognerà attendere ancora qualche tempo infatti se da un lato solo pochi giorni fa tramite la sua pagina social il sindaco di caltanissetta roberto gambino ha dichiarato che il vittorio emanuele dovrà essere la sede del corso di laurea di medicina e chirurgia perché la storia e la struttura lo impone ha inoltre puntualizzato che proprio per questo motivo venerdì scorso è stato notificato il ricorso al tribunale amministrativo regionale ad essere impugnato è stato il provvedimento del direttore generale dell'asp che dava seguito ad una delibera dell'ex governo regionale che stabiliva di spostare gli uffici dell'azienda sanitaria in via la regina margherita per spending review sulla questione il direttore generale alessandro caltagirone replica che gli ospedali dell'asp vittorio emanuele dubini entrambi a caltanissetta saranno riqualificati e sfruttati al meglio per esigenze della comunità e puntualizza abbiamo ricevuto due finanziamenti della giunta regionale per un totale di quasi 14 milioni di euro che ci consentiranno di rendere pienamente fruibili e per diverse esigenze queste strutture di proprietà dell'azienda sanitaria provinciale il finanziamento ottenuto è indispensabile per riqualificare integralmente le due strutture in atto parzialmente utilizzate rispetto al ricorso presentato tengo a precisare continua che le scelte che come asp di caltanissetta stiamo portando avanti sulla destinazione degli immobili terranno conto delle rinnovate esigenze anche per gli aspetti didattici esigenze che siamo consapevoli dice sono mutate nel tempo e proprio per tale ragione saranno rimodulate per assicurare i servizi necessari specie sul fronte universitario nell'ambito sanitario l'asp di caltanissetta precisa inoltre fa parte del consorzio universitario e siamo noi dice i primi a volerlo tutelare e poi conclude abbiamo tutto l'interesse affinché gli studenti possano godere del giusto spazio in linea con le norme vigenti e assicuriamo che saranno loro garantiti locali adeguati per soddisfare tutte le esigenze formative l'assemblea regionale siciliana 5 stelle nuccio di paola opta per il seggio di caltanissetta i nomi degli altri due eletti a palermo e catania alla fine nuccio di paola ha scelto la sua caltanissetta il candidato alla presidenza della sicilia dei 5 stelle alle ultime elezioni regionali ha optato per il seggio della provincia nissena ho ascoltato tutto il movimento 5 stelle e alla fine ho deciso che la scelta più giusta sia quella ad optare per il seggio di caltanissetta dice di paola che è stato eletto anche nei collegi di palermo e catania ringrazio tutti i candidati gli attivisti e simpatizzanti del movimento per l'apporto dato la scelta di paola definisce dubbi sugli ultimi due candidati eletti all'assemblea regionale per i pentastellati nel collegio di palermo infatti viene eletta roberta schillaci deputata già componente della commissione antimafia e alla sua seconda legislatura a catania invece scatta il seggio per martina ardizzone resta fuori il candidato nisseno filippo ciancimino segnalazione sulle condizioni del cimitero angeli di caltanissetta parla l'assessore comunale cettina andaloro in una nota il consigliere nazionale di mezzogiorno federato salvatore giunta dichiara se il cimitero monumentale di caltanissetta sia una discarica abusiva e aggiunge non per fare polemica mandando il cimitero a deporre un fiore sulla tomba dei miei cari ho notato il degrado e la sporcizia che regna in un luogo per andonomasia dovrebbe essere di raccoglimento di preghiera piacevole a vedere e non ricettacolo di sfabbricidi ed erbacce e dire che il nostro è un cimitero monumentale che dovrebbe essere tutelato nella stessa maniera in cui si salvaguarda un'opera d'arte eppure quello che si fa è poco troppo poco in ogni angolo spazzatura erbacce e sfabbricidi che non vengono rimossi neanche per la commemorazione dei defundi abbiamo sentito l'assessore in merito cettina andaloro che ha replicato io sicuramente mi sento di dire che è andato molto anzi benissimo perché c'è stata un'affluenza di gente continua tutti e quattro i giorni perché ricordo ai nisseni che abbiamo messo un servizio in più di navette a cominciare dalla domenica quindi un giorno in più rispetto ai tre giorni che ci sono sempre stati quindi un servizio in più che abbiamo dato alla città un altro servizio che abbiamo dato alla città al cimitero è la pulizia che non è più un evento straordinario c'è stata e c'è tutta una programmazione di tre quattro mesi per la pulizia e scerbamento degli spazi comunali quindi a mio parere ma anche da quello che ho sentito dire il cimitero è abbastanza pulito e i bagni sono abbastanza puliti però se contiamo l'afflusso che c'è stato in quattro giorni ci sta che ci potrebbe essere qualche cosa in più poi ho visto da ho visto anche da una cosa che non mi è dispiaciuta tanto ci sono degli spabriciti che sicuramente e dobbiamo togliere sicuramente faremo una programmazione anche per togliere questi prodotti di inquinamento mi sento dire pure un'altra cosa e spero che la gente capisca quello che voglio dire noi faremo la bonifica dopodiché si passeranno alle sanzioni quindi siamo tutti avvertiti se dopo la nostra bonifica ci saranno questi questi ancora prodotti di scarto e sfabriciti in giro per il cimitero scherzeranno sicuramente le denunce. Camera di commercio bandi per le imprese del territorio nisseno continua il percorso in favore del tessuto imprenditoriale nisseno attraverso nuovi bandi volte al sostegno finanziario delle micro piccole e medie imprese che intendono affrontare nuovi percorsi di attività aziendale per gestire innovare ampliare e diversificare il proprio core business questo l'obiettivo che la camera di commercio di caltanissetta realizza con la promozione di una serie di bandi volte alla concessione di contributi e voucher a tutte quelle imprese partecipanti e rientranti nei requisiti previsti per ciascuno di essi sarà possibile aderire e presentare la domanda di partecipazione a partire da domani 4 novembre 2022 i bandi a disposizione come recita la nota della camera di commercio di caltanissetta sono il bando voucher digitale i 4.0 il bando per la prevenzione delle crisi di imprese e il supporto finanziario e il bando formazione di lavoro per ulteriori informazioni inoltre la camera di commercio nisseno invita tutti gli imprenditori e parte interessata a partecipare a prenotare un appuntamento gratuito la richiesta potrà essere inoltrata attraverso una mail oppure tramite la pagina facebook punto impresa digitale pid caltanissetta fervono i preparativi per la giornata dell'unità nazionale delle forze armate il programma delle iniziative del 4 novembre a caltanissetta la giornata dell'unità nazionale delle forze armate è una giornata celebrativa nazionale italiana fu istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale evento bellico considerato completamento del processo di unificazione risorgimentale visto che permise all'italia l'annessione a trento e trieste per tale motivo l'intervento italiano è considerato la quarta guerra di dipendenza italiana istituita nel 1919 la celebrazione il 4 novembre è l'unica festa nazionale che abbia attraversato decenni di storia italiana dall'età liberale al fascismo alla repubblica nel 1921 in occasione della giornata dell'unità nazionale delle forze armate il milita ignoto venne sepolto solennemente all'altare della patria a roma nella mattinata di domani 4 novembre avrà luogo la cerimonia ufficiale di celebrazione della giornata dell'unità nazionale delle forze armate anche a caltanissetta la manifestazione avrà inizio alle ore 9 30 con il tradizionale schieramento del picchetto d'onore interforze presso il monumento ai caduti di viale regina margherita cui seguirà la cerimonia dell'alza bandiera e la deposizione della corona da loro da parte del prefetto su eccellenza chiara armenia al sacello dedicato ai caduti alla manifestazione che si svolgerà alla presenza delle massime autorità civili militari e religiose parteciperà anche una rappresentanza delle scolaresche locali alle ore 18 presso il monumento ai caduti la main a bandiera concluderà il programma delle celebrazioni in concomitanza alla significativa ricorrenza da lunedì 31 ottobre fino a sabato 5 novembre le vetrine di alcuni esercizi commerciali del centro storico del capoluogo sono state allestite con le uniforme e i simboli delle forze dell'ordine dei corpi militari e civili e delle associazioni volanteristiche e combattistiche d'arma covid in sicilia il bollettino settimanale dice che i contagi sono in calo sono in diminuzione i contagi in sicilia nella settimana dal 24 al 30 ottobre infatti si è registrato un decremento delle nuove infezioni sono state riscontrate in meno 12,92 per cento di positività rispetto alla settimana precedente per un'incidenza di 176,5 casi di positività su 100.000 abitanti il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di siracusa trapani e messina le fasce di età maggiormente a rischio risultano sempre quelle tra i 69 e gli 89 anni mentre aumentano le ospedalizzazioni e più della metà dei pazienti risultano vaccinata per quanto riguarda la campagna vaccinale invece dalla settimana che va dal 26 ottobre al 2 novembre hanno completato il ciclo primario il 21,68 per cento dei bambini gli over 12 vaccinati con almeno una dose sono il 90,83 per cento del target regionale i vaccinati con terza dose infine sono il 72,35 per cento degli aventi diritto dal 7 settembre il ministero della salute ha autorizzato la somministrazione della dose booster agli over 60 alle persone di elevata fragilità e agli over 12 in attesa della terza dose includendo anche operatori sanitari lavoratori e ospite le strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza le quinte dosi somministrate infine risultano complessivamente 974 piscina il punto della situazione intervento di annalisa petitto consigliere comunale replica di fabbio caracausi assessore allo sport il sindaco gambino ha chiesto alle federazioni regionali nuoto un parere preventivo all'espletamento delle gare agonistiche atteso quando si evinge dal progetto depositato dalla ditta che sia giudicata all'appalto per la gestione della piscina comunale la domanda non è retorica e apporsela e il consigliere comunale annalisa petitto che aggiunge che non è di poco rilievo se si pensa che la vasca della piscina comunale da 4 metri verrebbe portata un metro e 40 così come emerge dalla relazione tecnica del progetto depositato a fine dello scorso settembre all'ufficio tecnico del comune a modifica ed integrazione del precedente tale riduzione della profondità della vasca pregiudicherà diverse attività sportive come certamente la pallannuoto il nuoto sincronizzato e il salvataggio aggiungiamo il fatto che ad essere pregiudicati sarebbero anche i corsi di nuoto che prevedono ovviamente un fondamentale step quale lo spostamento di acqua profonde ma soprattutto siamo certi che le gare agonistiche di livello regionale sarebbero autorizzate con una vasca di profondità un metro e quaranta ho già inoltrato interrogazione urgente al sindaco nell'auspicio che la risposta pervenga prima del consiglio comunale di prossima fissazione seduta in cui il sindaco dovrà assumersi la responsabilità di fronte nei seni abbiamo sentito l'assessore allo sport fabio caracausi che in una nota ha spiegato che la piscina comunale attualmente ha una profondità di un metro e quaranta nella parte bassa e di tre virgola cinquanta nella parte alta una profondità inferiore ai tre metri e mezzo non ridurrà l'offerta sportiva che la piscina ha avuto in passato in quanto i regolamenti fin permettono di svolgere tutte le attività legali a livello nazionale regionale per quanto riguarda la pallannuoto la lunghezza della vasca deve essere 35 metri attualmente è di 25 l'altezza minima della vasca deve essere un metro e ottanta mentre attualmente non arriva ai 140 centimetri quindi non si può svolgere la pallannuoto così come vale per il nuoto sincronizzato un livello di acqua più basso agevolerà le scuole di nuoto favorendo l'apprendimento e la migliore sicurezza nel lavoro degli istruttori l'abbassamento del livello dell'acqua non diminuisce l'offerta sportiva ma la migliora in conclusione le modifiche proposte dalla società concessionaria non comportano un utilizzo sportivo della piscina inferiore rispetto a quello attuale san cataldo consiglio comunale comunità energetiche e autoconsumo collettivo approvata la proposta del gruppo consigliare 5 stelle tra i diversi punti all'ordine del giorno anche un'altra mozione è stata approvata dal consiglio comunale san cataldese durante la seduta del 27 ottobre si tratta della proposta del gruppo consigliare del movimento 5 stelle sulle comunità energetiche e di autoconsumo collettivo firmata dai consiglieri davidalu adriano bella e cinzianaro con la stessa come fanno sapere tramite un comunicato stampa si chiede all'amministrazione di attivarsi per facilitare la nascita delle comunità energetiche nella nostra città promuovendo l'informazione e la messa in rete dei potenziali soggetti interessati creando occasioni di confronto sul tema con le scuole i soggetti imprenditoriali interessati i quartieri cittadini e ancora si legge a promuovere un percorso specifico con l'istituto autonomo case popolari rivolgendosi al patrimonio di edilizia popolare e i cittadini che lo abitano come primi soggetti interessati dalla riduzione del costo dell'energia e poi ancora si pensa alla ricerca di aree marginali e coperture di edifici di proprietà comunale che potrebbero essere utilizzati per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili oltre a valutare altre iniziative che guardino sempre la produzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili nel territorio comunale siamo soddisfatti del risultato raggiunto esclama il consigliere davidalu con le comunità energetiche volute fortemente dal movimento 5 stelle oggi cittadini attività commerciali imprese denti pubblici e privati possono unirsi per produrre e condividere la propria energia elettrica da fonti pulite si tratta prosegue di un'importantissima occasione per risparmiare sulle bollette e contribuire a una rivoluzione energetica ambientale che può finalmente partire dal basso Salva l'arte anche a Caltanissetta diversi gli appuntamenti in programma Fatta app anche a Caltanissetta la campagna nazionale di lega ambiente Salva l'arte che prevede in tutta Italia degli appuntamenti con il patrimonio culturale e artistico si parla di bellezza partecipazione e inclusione un'iniziativa che va avanti da molti anni 25 anni fa infatti la prima edizione nel nostro paese i diversi circoli territoriali hanno organizzato vari appuntamenti tra il 28 e 30 ottobre ma in molti casi come a Caltanissetta Salva l'arte accogliere i curiosi e gli appassionati della storia della città questa domenica 6 novembre con un percorso alla scoperta di tracce testimonianti il passaggio di Caltanissetta da città feudale a città Capovalle che avvenne nel 1818. Salva l'arte è una campagna nazionale di lega ambiente che serve a valorizzare i tanti beni culturali che abbiamo in questo paese devo dire che sono tanti anni che non lo facevamo a Caltanissetta almeno 6-7 anni quindi con piacere ritorniamo a fare Salva l'arte e quest'anno lo dedichiamo alle tante emergenze e tanti tesori che sono nascosti nel centro storico relative al periodo che interessò Caltanissetta quando prima era una città feudale e poi nel 1818 diventò invece Capovalle cioè quindi una città capoluogo e questo determinò tanti cambiamenti nella città per quanto riguarda i trasporti per quanto riguarda l'illuminazione cittadina per quanto riguarda il sistema della posta e tante testimonianze che sono le ritroveremo in tante nicchie nascoste e questo lo faremo grazie alla guida dell'architetto Giuseppe Saggio partiremo dalla piazza delle Forche che si trova nella parte alta di via la Regina Margherita dove inizia il corso Umberto in questo slargo questa è la vecchia piazza delle botteghelle piazza delle Forche e poi andremo verso gli Angeli risaliremo fino a arrivare al quartiere bizantino e poi insomma ritorneremo verso piazza Garibaldi Prosegue la settantesima stagione concertistica promossa dall'associazione Amici della Musica di Caltanissetta dedicata al maestro Giuseppe Pastorello in programma per il sesto appuntamento è il concerto lirico del trio Salvo di Salvo Francesca Sapienza e Annalisa Mangano domani venerdì 4 alle ore 18 e 15 all'auditorium del liceo musicale Manzoni Juvara di Caltanissetta ingresso libero Sport Bodybuilding un atleta nisseno si prepara per partecipare alle finali mondiali sabato a Policastro Bussentino ci sarà anche un atleta nisseno alle finali mondiali di Bodybuilding e Fitness in programma sabato 5 alle ore 12 al Cineteatro Tempio del Popolo di Policastro Bussentino in provincia di Salerno massiccio il numero di partecipanti provenienti da tutti i continenti pronti a contendersi il titolo di campione in terra campana Policastro Bussentino nota località balneare del Tirreno è il borgo più popoloso del comune salernitano di Santa Marina nel Cilento Meridionale l'appuntamento è organizzato dalla IBFA Associazione Internazionale Bodybuilding e Fitness per Michelangelo Locicero che vanta già diverse affermazioni manifestazioni di carattere nazionale e internazionale con piazzamenti importanti ai mondiali di Atene, Helsinki e Milano nonché alla notte dei campioni di Roma si tratta dell'ennesima prova in una competizione tra le più impegnative una gara che ha preparato con grande attenzione con il sostegno e i suggerimenti della sua manager Nadia Giardina che è anche la moglie Locicero punta a un risultato prestigioso per portare in alto anche il nome della sua città, Caltanissetta dove vive e si allena quotidianamente conciliando la passione sportiva per il culturismo con l'attività lavorativa nel settore della sicurezza che svolge a Catania e tutto vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità grazie per l'attenzione, appuntamento rinnovato alle prossime edizioni Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì quando il vero autunno entrerà nel vivo sull'Italia complice questo minimo di bassa pressione giunto dalle isole britanniche piogge rovesci sparsi quindi al centro sud nel dettaglio possiamo osservare ancora tanta nuvolosità che interesserà il centro nord ma man mano la perturbazione si sposterà alle attitudini più meridionali quindi verso le regioni del sud nel dettaglio possiamo anche notare con i focus le precipitazioni al mattino ancora residue sul nord est con neve sulle dolomiti migliora al nord dal pomeriggio mentre i rovesci temporali attannaglieranno tutto il centro sud con questo minimo depressionario in formazione sul tirreno meridionale uno sguardo quindi in sintesi all'Italia l'instabilità su molte delle nostre regioni con temperature che inizieranno a calare al nord poi durante il fine settimana anche al centro sud netto calo termico i dettagli maggiori scaricando l'app di Trabi Meteo servizi di pubblica utilità farmacie di turno Caltanissetta servizio diurno centrale Corso Umberto servizio notturno buonasera via Edmondo De Amicis Corso Umberto Corso Umberto